il soldato indica un punto di lancio per il team attenzione gassi l'avvicinamento per accedere alla zona sicura ma io direi di andare a imparare che staschare atti ciò che andiamo a chiare ok vai vai cazzo di paura ho fatto il cazzo eh mamma ma io la prima volta l'ho visto saltato dalla te il nuovo obiettivo identificato il nuovo obiettivo è in dvs5 o pixel box c'è una piccola santo la pc per l'ultimo da un obiettivo ammessati via le lobby con il pc apposta di settimane con quelle cannellate con i piccoli stavano qua davanti stavano passare alla prossima area qui mamma mia da volto stavano è stato muovo traccato facciamo questa carabina ma qui ma qui il 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 cazzo a fare che ci vengono a metterci due le case c'è 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 oh c'è la montagna al punto d'arancia c c c lì è una guerra mi serve copertura ok molto comunque quello sta sopra la montagna c'è minchie arriva il gas oh dine qua dine qua c ma ce l'era grazie no c c c c bellissima c 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 eccomi c 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